Il Pescara, il mercato del Pescara, abbiamo letto di una proposta del Monza nei giorni scorsi a Cristiano del Grosso che ci sta pensando, però sembra essersi raffreddata nelle ultime ore? Adesso noi siamo addirittura d'arrivo lì con Anastasio, il terzino che comunque avevamo impresso dal Napoli e abbiamo trovato l'accordo con il Napoli. La mia volontà era quella di inserire un difensore esperto come del Grosso dietro. È chiaro che bisogna fare delle valutazioni, in questo momento lui è sotto contratto con il Pescara. Può essere che ci sia una trattativa che va in corso come può essere che non si conclude. Vedremo nei prossimi giorni. Il Pescara ha ingaggiato Galano, notizia ufficiale. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, un po' incostante ma ha grande qualità. Un giocatore che l'anno scorso non è stato costante ma l'anno scorso Foggia è stata una piazza difficile un po' per tutti per i motivi societari e per la penalizzazione. Quindi un giocatore di indiscussa qualità, un esterno che ha un gran piede, che ha parecchi gol nel suo DNA. Quindi un ottimo acquisto da parte del Pescara. E poi Cisco, un prospetto interessantissimo, classe 98 che tu conosci molto bene, contro il Pescara fece un gol pazzesco col Mancino. Io ho pensato, è un sinistro naturale invece? No, io ho visto spesso giocare a destra, gioca benissimo con il destro. Per me è un destro. Lui utilizza entrambi i piedi. È un ragazzo che ho seguito nel Padova, che volevamo portare anche noi a Monza. Dopo ebbe un'esplosione improvvisa, lo compro il sassuolo. L'anno scorso è andato in prestito per giocare sei mesi all'Albissola. Però è un ragazzo che il Pescara fa un ottimo acquisto, un ragazzo che a me ricorda, lo dico, come Movense, anche Rocco Pagano.